Il Comune di Agrigento sta istituendo per la prima volta in città la cosiddetta colonia felina. Si tratta del riconoscimento del ruolo dei gatti nel nostro ecosistema faunistico. Il legislatore ha definito e identificato le colonie feline come gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitalmente lo stesso luogo, sangendone la natura di patrimonio indisponibile dello Stato. La competenza è stata demandata alla pubblica amministrazione, che è responsabile della sua gestione e protezione. Gli animali, pertanto, non possono essere rimossi da dove si trovano o spostati. In merito abbiamo sentito l'assessore a ramo, Roberta Lala. Noi, come anche detto precedentemente, ci stiamo adoperando per aprire l'ambulatorio veterinario per la sterilizzazione dei cani, per la loro cura. Questo è un concorso con l'ASPA. Oltre a questo, una novità è che abbiamo istituito la colonia felina. Le colonie feline sono tutelate dalla legge 281 e 91, per cui ci saranno dei volontari che si occuperanno di questi gatti, che sono gatti, tra virgolette, randaggi, che vivono in un determinato luogo, assembrati tra di loro, che sono un unico nucleo, un'unica famiglia, e anche questi gatti avranno la protezione da parte del comune, da parte dei volontari e l'assistenza dovuta. Parliamo dell'ambulatorio veterinario, che a breve ci sarà l'inaugurazione. In cosa consiste e quali saranno i servizi che offrite? L'ambulatorio veterinario è di fondamentale importanza per la lotta al randaggismo, perché il randaggismo attraverso le sterilizzazioni vedrà un ribasso nel numero dei cani appunto randaggi. Oltre alla sterilizzazione, con l'ausilio della collaborazione dell'ASPA, ci sarà anche la microcippatura dei randaggi. Inoltre, una cosa che mi sta molto a cuore, ma che purtroppo a causa della pandemia non posso sviluppare questo progetto per il momento, ma che ho intenzione di portare avanti, è effettuare una campagna di sensibilizzazione all'interno delle scuole, perché è proprio la cultura del rispetto dell'animale che deve cambiare. Spesso i bambini non sono cresciuti, non tutto ovviamente, guardando quello che succede nel rispetto per l'animale, perché l'animale non è un soprammobile, è un essere vivente, è un essere vivente che ci può dare tanto. Nessuno ci obbliga a prendere un cane, ma nel momento in cui lo facciamo dobbiamo averne cura, perché non solo maltrattarne un reato, ma è un atto vile, davvero vile. Quindi io invito tutti ad avere rispetto per questi esseri che sono tutto cuore, sono degli esseri puri, sono degli esseri che dobbiamo tutelare, perché l'evoluzione culturale in un paese si vede anche da come trattano gli animali. Noi vogliamo creare ad Aggregendo una nuova realtà, una realtà che metta l'animale ad avere tutti i suoi diritti, ad essere protetto, ad essere adottato nel momento in cui viene abbandonato e dobbiamo cambiarla questa cattiva gestione da parte di molti degli animali. Spesso troppi animali vengono abbandonati, soprattutto al meridione. Quindi cerchiamo come Comune di dare un sostegno, sia sotto il profilo della cura dell'animale, ma anche cercando di fare in modo che questi cani vengano adottati, tranne per i cani che sono i cani di quartiere. I cani di quartiere sono quelli che crescono in un quartiere, non sono pericolosi. Questi cani non possono, molti mi dicono, ma perché molti cani sono per strada e non stanno al canile? Perché un cane non si può condannare all'argastolo dentro un canile, lo dice la legge. Un cane deve essere sterilizzato per legge, microcippato e poi rilasciato nel territorio. Ovviamente non nel caso in cui un cane è pericoloso, in quel caso purtroppo verrà chiuso nel canile senza possibilità di uscire. Ma i cani di quartiere sono cani che sanno vivere da soli nel quartiere. Spesso la gente del quartiere se ne prende cura. Quindi se molti di voi vedono dei cani di quartiere, il comune ha già, assieme al rifugio di cui in questo momento con il quale abbiamo contatto e contratto, guarda se questi cani, assieme all'astro, sono pericolosi o meno. Se non sono pericolosi, li rimette nel territorio.